I libri elastici sulla guerra sono due Sì, perché è un po' bravo Sì, sono due a prezzo Però comunque... Cioè... Era un uomo Sì, alla fine di che trovo... Allora, quindi dovevo scrivere il campionato modelli da guerra e scienze Sì, sì 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 No, sarebbe già... Sì Cioè... ... Non si spessi, ma è prima che non è nulla C'è qualcosa di tranquillo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.